buongiorno oggi una domenica un po diversa sono pronta per uscire in montagna è abbastanza alto si sale sono arrivata al piccolo erano di san michelarcangelo adesso entro perché c'è una grotta di san michelarcangelo piccola ecco mi sono riuscita ad entrare dentro la grotta sono entrata qui sono dentro la grotta li saluto tranquilli sono le donne in processione le donne partorienti o che hanno partorito o che dovevano partorire venivano qui dietro diciamo di la grotta venivano a bere l'acqua perché così avevano più nati con i bambini questo quadro qui, questo dipinto penso che di salire all'anno 1100-1200 queste donne qui vicino alla chiesa l'hanno costruito come una culla scavata nella dietro dove san francesco quando si legava diciamo qui all'eremo che era un devoto di sant'angelo dormiva dentro tutto pietra condivision Grazie a tutti